Grazie a tutti. 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 Guarda quelle fiori come si sta uscendo. Ecco. Noi non li avete fatti papattoli. E vi potete consegnare a farvi il benedire. E poi mi lascio. E avete detto che voi siete un papattolo. Ah, ma il vasco lo sconda vi fa fatto che sono allontati. Io dovevo rispondere. Non lo so. Non posso rilasciare questo video. E non lo so. E quello che cos'è? La GoPro. Ma che? La GoPro. E' un'altra camera che può fare foto, video sul gioco, video e tutto. E' un'altra camera che può fare foto. Ciao, ciao, ciao maestro. Ciao. Signor Milano, al millar por paso. 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 Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione